Ciao a tutti ragazzi! Oggi devo impersonare Giulio Cesare, quindi devo usare questo tono di voce. Cesare Day Off, o meglio, il giorno di riposo di Giulio Cesare. Questo è un gioco che ha la giocabilità di un gioco per ragazze, quindi ci possono anche giocare queste ragazze, diciamo. Qualunque genere femminile, animale o umano può giocare a questo cavolo di gioco. Ecco, ormai i giochi per ragazze si stanno confondendo con i giochi da uomini, io vorrei sapere perché le ragazze hanno incominciato a giocare a videogiochi. Perché? Me lo volete spiegare? Non ve ne fregava un cavolo! Vi volete solo truccare? Avete i giochi per ragazze? No, adesso dovete pure entrare in questi giochi che sembrano da uomo, ma in realtà sono per ragazze. Lo so, lo so. Va bene, fa niente, andiamo avanti. Allora, il giorno di riposo di Cesare. No, però, mi dovete spiegare perché interessano pure questi giochi qui. Pure a Sirius Sam andate a giocare, pure a Quake Live. Ma perché? Andate a truccarvi. Cavolo, ci state rovinando tutte, compadre, il cosmo mesmo. Perché il capitalismo gli state... Ma che cavolo sto dicendo? Andiamo avanti, va? Allora, vabbè, tanto uno che ci frega. Allora, andiamo avanti. Allora, il giorno di riposo di Giulio Cesare. Ah, giusto, non è il tono di voce. Allora, premere su o giù. Premo su. Allora. Sì, su o giù. Allora, devo scegliere. Su o giù, su o giù, giù. Olice verso. Ah, leone. Troppo? Giù. È finita l'insalata? Giù. Mmm, no. Ovviamente sì, questo lo facciamo. Rosa? Ti ammazzerei. Su, ovviamente. Giulio Cesare va solo su. Ma che cavolo di cappello è? Giù. Pollice verso, ovviamente. Brutus? Ti ammazzerei, Brutus. Go to the hell. Indiana Jones si salva. Non si può uccidere Indiana Jones. Eh, Giulio Cesare è sempre su. What a red day. Thumbs up first. Cavolo, mi sembrava più lungo. Ma questo non è un gioco. Questo non è un gioco. No. No, è finito così. No, ma questo video non posso caricarlo. Questo video non posso caricarlo.